Detta al grosso mio bimbo, dove risparmiare e un gioco, fiera del giocattolo, alimentazione, abbigliamento, cosmesi, piccola puericultura, prima infanzia, camerette, arredo scuole e asili, articoli da regalo, promozioni di novembre con sconti dal 10 al 60%. Black Weekend Detal Gross, più compri, meno spendi. Detal Gross mio bimbo, il più grande e specializzato baby store del Salento, con i prezzi più bassi d'Italia e di internet. Venite a trovarci in Viale Ferrari numero 1 a Caserano e presto anche a Galatone. www.detalgross.com Detal Gross mio bimbo, dove risparmiare e un gioco.